10 5 4 3 2 1 vai vai 100 dossati piega sinistra allunga vai 150 sconnessi e stacca il muro sinistra 2 tieni dopo tieni dopo per ritardo a destra 2 tieni molto per sinistra 2 sfiora in destra 3 agganza e apre per destra 5 vai e alla cappella tieni destra per sinistra 4 dossata apre 5 per destra 5 meno sconnesso e vai 80 torso dritto e vai 100 e stacca sciganne destra vai 100 sfiora sinistra per destra 5 piena per piega sinistra diventa sinistra 2 per destra 2 sporca e vai sale 100 basso dritto vai 70 e ritarda sinistra 1 tonda sì ma è scende ma è scende 2 50 agli alberi in posta destra 4 più più credici e tieni muro per ritardo in fila sinistra 4 per immersione destra 1 con balla ma è scende ma è scende in posta la casa destra 4 dossata tieni centro per 80 destri per subito sciganne destra veloce 20 sinistra 4 dossata in sfiora destra e sinistra con dosso e sfiora 150 vai e occhio al muretto ritarda sinistra 4 più tieni in destra 5 per sinistra 4 per destra 4 corta scende 50 sinistra 5 lunga attenzione chiude 2 più a rail chiude 2 più a rail 30 immersione destra 1 sfiora muro no e sale 100 sconnessi all'albero ritarda destra 4 più credici chiude 2 alla rete e tieni con dosso vai 50 ritarda sinistra 3 più tieni in destra 3 più sconnessa per sinistra 4 tieni centro in piega destra vai 100 sconnessi alla casa ritarda sinistra 2 meno sporca continua sinistra 2 tieni centro chiude 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 per ritarda destra 1 chiude tonda vai 70 alla balla destra 2 chiude vivio per piega sinistra in destra 5 piena per ritarda la ringhiera sinistra 4 più credici per infila sinistra 5 credici per destra 5 sì per ritarda sinistra 5 meno meno tieni sì per destra 3 per sinistra 2 vivio e sale 80 dosso pieno 50 allo 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 specchio ritarda destra 4 più sì per piega sinistra per ritarda destra 4 dossata due volte e vai 100 sinistri non mollare e chiude poco allo specchio 50 che sta che cambia destra 2 meno 2 stringe vai meglio di 6 scende 200 e credici e rosso ritarda sinistra 4 meno meno dopo e tieni centro e vai 70 addosso dritto per stacca ritarda sinistra 2 meno tieni vicida per imposta destra 2 più aspettala per piega sinistra piena vai per destra 5 chiude poco alla casa per subito immersione destra apre buona e vai 80 e ritarda destra 4 più 2 tempi vai 30 ritarda sinistra 3 più apre per subito imposta sinistra 2 in fila 50 e ritarda molto sinistra 3 meno meno per piega destra lunga vai vai non mollare e chiude 4 ma dopo al cartello e tieni per piega sinistra sai 50 sciganne veloce destra 40 e imposta destra 3 più credice vai sì 70 e ritarda molto al cartello sinistra 4 2 sale scende 100 al solare stacca inversione destra 1 stringe dopo stringe dopo e scende 80 ritarda imposta a destra 3 più stringe per sinistra 3 meno lunga 50 e ritarda a destra 2 più sì per piega sinistra in destra 3 tieni centro 50 50 e ritarda sinistra 2 più lunga lunga apre 5 scivola con lo scolo per destra 4 chiude 2 al palo chiude 2 al palo 30 tieni destra e ritarda sinistra 2 2 tempi 40 inversione sinistra sinistra leva ma in piega sinistra in destra 5 apre per imposta a destra 3 al palo e no per piega sinistra sfiora 2 volte in ritarda a destra 5 al pino in piega sinistra e vai 150 destri e ancora 100 e ritarda a sinistra 4 più più per destra 5 2 tempi chiude il secondo per piega sinistra in destra 3 più per sinistra 2 bivio apre apre sfiora per sinistra 4 sul ponte vai 100 imposta su bivio destra 4 più si poco e apre e vai 100 sinistri e chiude 3 più alla caggia chiude 3 più e vai 100 al paletto sinistra 2 ritarda la SI in piega destra lunga tieni giù e chiude 3 più e tieni al ponticello si viscido per sinistra 5 lunga chiude 4 e tieni in destra 5 lunga credici e chiude la breccia e tieni vai 100 al palo sinistra 4 più più tieni centro e butta tieni centro e butta vai 40 e sinistra 5 meno corta in piega destra vai 100 imposta destra 3 più lunga credici chiude 2 più chiude 2 più per sinistra 1 tonda in destra 2 più più apre vai sale 100 condosso e ritardo rovescio sinistra 5 in destra 5 apre apre e alle lamiere ritardo destra 4 più tieni centro condosso tieni centro condosso per sinistra per sinistra più per al palo sinistra 3 più e ritardo in fila la siepe sinistra 3 condosso vai dritto infine a Grazie a tutti.